oh salve buonasera e bentornati su no mamamazzo per il sociale e la salute buon salve bentornati su no mamamazzo oggi parliamo di un morbo che si sta diffondendo per tutto il mondo no state tranquilli non voglio sciacallare sul coronavirus non in maniera diretta a quanto meno ma vorrei parlarvi di un numero di dylan dog che ho ripreso in questi giorni proprio per questo questa notizia che è sulla bocca di tutti che appunto purtroppo il coronavirus e il conseguente allarmismo che ne è conseguito mi è venuto in mente di rileggermi morbo m numero 397 della serie regolare di dylan dog dove appunto manco farlo apposta si parla proprio di un'epidemia che si è diffusa per londra e per il mondo questo numero stavo guardando è di ottobre 2019 però voglio dire non è che paola barbato se non sbaglio l'ha scritto lei giusto sì non è che paola barbato prevede il futuro semplicemente ci sono già state epidemie in passato ce ne saranno altre in futuro e la reazione bene o male è sempre quella ovvero lo scetticismo eccessivo da una parte l'eccessivo allarmismo dall'altra e nel mezzo i poveri veri ammalati comunque appunto questo questo fumetto parla proprio di questo parla che c'è un morbo un morbo abbastanza generico ci sono diverse forme di questo morbo proprio per dare un po di fantasia e di spazio anche al disegnatore e oltre che allo sceneggiatore quindi c'è il morbo che per esempio ti mangia dall'interno quindi tendi a dimagrire c'è il morbo dove sei pieno di fiacche di vesciche sei allettato ed è dolorosissimo c'è l'altra variante del morbo dove hai delle escrescenze osse quindi appunto si iniziano a deformare le persone giusto per dare un tocco di horror a una collana horror e appunto ci sono invece altri che le ossa si rompono e poi infine ci sono questi famigerati figli della meteora perché hanno una un arco del loro morbo talmente veloce che da quando manifestano i primi sintomi peggiorano a dismisura diventando anche dei giganti deformi quindi hanno una sorta di gigantismo improvviso una deformità improvvisa fino ad arrivare a esplodere e impazzire volendo anche in questa piccola fase improvvisa volendo anche uccidere tutti quelli che ci sono intorno quindi diventano dei veri e propri mostri passatemi il termine perché rileggere oggi un fumetto di Dylan Dog che ho letto qualche mese fa proprio perché appunto mi ha ricordato molti degli atteggiamenti che si sono sentiti in questi giorni sui telegiornali che ho visto io stesso con i miei occhi comunque lavorando a contatto con il pubblico e ho voluto rileggerlo e ci sono due aspetti di questo numero che mi sono piaciuti piaciuti molto uno è l'aspetto appunto dell'allarmismo dimostrare appunto come un'epidemia al di là delle sue reali della sua reale pericolosità che comunque non è mai da sottovalutare crei nelle persone che non sono abituate a trovarsi togliere la terra da sotto i piedi crea nelle persone comunque agitazione ansia paura e quindi panico panico che poi appunto si diffonde come una seconda epidemia il cosiddetto allarmismo la psicosi l'isteria di massa è come se fosse una un virus conseguente al virus e crea appunto tutto quello che abbiamo sentito anche su internet in questi giorni cela le cela scusate svela le nostri nostri più bassi istinti quindi le persone che magari mal celavano il razzismo fino a poco prima si sentono in diritto di manifestarlo appieno verso le persone di popolazione asiatica oppure questo anche totalmente in modo totalmente ingiustificato le adesso ci sono per esempio le persone del sud italia che stanno svelando il loro razzismo verso le persone del nord ma in questo caso perché lo hanno subito per prime per un sacco di anni e diciamo adesso quelle persone che hanno covato rancore per questo stanno la stanno facendo pagare alle persone del nord dato che l'infezione è principalmente nel nord italia nella regione lombardia nel paese di codogno nel lodigiano ma anche tantissimo nella mia provincia a bergamo e quindi appunto c'è c'è questo sfociare di razzismo improvviso proprio per sfogare la rabbia perché la paura la rabbia è data da una paura che poi la paura sia giustificata o meno questo è il processo psicologico no la paura genera rabbia che è una un meccanismo di difesa da questa paura il purtroppo anche il razzismo funziona così un'altra cosa che mi è piaciuta di questo numero però chiaramente vi spoiler vi spoilerò il finale quindi se volete leggervelo tranquillamente saltate questa parte perché adesso inizio a parlare apertamente del finale spoiler tra 3 2 1 l'altra cosa che mi è piaciuta di questo numero è il tutto quello che gira attorno al potere della speranza e anche delle bugie fondamentalmente praticamente per qualche ragione strana tutti questi ammalati questi questo morbo m si è diffuso a causa della perdita della speranza dovuta all'imminente impatto con la meteora vi ricordo che questo numero fa parte uno degli ultimi numeri che fa parte del ciclo della meteora dove c'è appunto questa meteora che dovrebbe cadere sulla terra e distruggere tutto quindi mi è piaciuto molto tra l'altro che questo numero sia legato al ciclo della meteora dato che non è stato un ciclo davvero legato ci sono stati numeri fin troppo sciolti da questa meteora questo no questo è stato molto legato e la gente siccome sa di dover morire a breve a causa di questa meteora che impatterà sulla terra perde la speranza la speranza di vivere sa che dovrà morire e proprio per questo c'è una sostanza nel cervello che smette di essere prodotta l'hanno spiegato così a grandi linee proprio per non dover dare reali spiegazioni scientifiche c'è una sostanza nel cervello che smette di essere prodotta e causa il nascere di questo morbo nelle sue variate varianti appunto con hanno scoperto i medici gli psicologi medici dottori non si sa che nel momento in cui la speranza ritorna il morbo quantomeno si ferma non si torna indietro quindi le persone deformate restano deformate mi è piaciuta anche questa parvenza di realtà perché in un contesto eccessivamente fantasy una persona totalmente deformata da una malattia guarendo sarebbe tornata all'aspetto normale nella realtà e anche qua non succede quindi se una persona è stata totalmente sfigurata dal morbo si è stata trasformata in un una persona affetta da gigantismo e da deformità guarisce non esplode non muore ma resta deforme questa piccola parvenza di verosimiglianza mi è piaciuta e appunto si scopre che quando si dà speranza a questa gente che speranza non ne aveva più il morbo si ferma questo mi è piaciuto anche proprio livello metaforico perché vale per tutto anche adesso quando adesso un attimino che i giornali hanno capito che a furia di sparare non cavolate sul sul coronavirus perché comunque ok parlano dei morti che ci sono stati e i morti oggettivamente sono quelli ma alle persone al pubblico generalista alle masse che comunque non riescono a fare due più due cioè le stesse masse che sono influenzati dai politici non fatemi fare nomi che poi sono sempre quelli ma di destra di sinistra penso che ognuno faccia così in un certo senso le stesse masse che sono influenzate dai politici che parlano di una cosa apertamente ossessivamente facendo focalizzare la propria schiera di fedeli politici su quella cosa e non parlano dell'altra queste stesse masse che vengono influenzati da questi stessi politici vengono influenzati anche dai giornalisti che parlano del coronavirus il coronavirus se ci sono stati 200 morti e il telegiornale parla di 200 morti è vero che ci sono stati 200 morti ma magari ci sono stati 1000 guariti e il telegiornale non ne parla perché dal momento che guarire è ancora la norma il telegiornale non parla della norma parla della notizia parla dell'eccezione quindi in questo caso parla dei morti non parla dei vivi dal momento che il telegiornale però parla solo dei morti e non parla dei vivi le masse che assorbono questa informazione vanno nel panico ora anche i giornalisti hanno capito che divulgare una notizia vera ma parziale può creare allarmismo complimenti che lo avete imparato dopo quasi 70 anni che esistono i telegiornali e oltre più di 100 che esistono i giornali complimenti che l'avete imparato hanno iniziato a dare dei dati un po più non dico rassicuranti però quantomeno dei dati un attimino più completi dove oltre a parlare dei morti parlano anche delle persone che guariscono e direi proprio l'ho sperimentato in prima persona dal primo weekend dove tutti sono andati a svuotare le corsie dei supermercati al secondo weekend c'è stato già più calma anche perché si erano già riempiti i bunker non è che tornano la settimana dopo a svuotare le corsie però voglio dire al di là di quello ho notato una certa calma addirittura molte persone si chiedevano ma come mai i negozi sono chiusi cioè si sono già dimenticati che c'è ancora il coronavirus no perché è la notizia vecchia di settimana scorsa quindi questi questi creduloni questi questi boccaloni mi dispiace lo dico in maniera affettuosa non è vero queste persone qua che appunto sentono il telegiornale qualunque cosa dica il telegiornale vengono sopraffatti no dalla notizia negativa già una settimana dopo parlando in modo un po più speranzoso queste persone sono un attimino rientrate nei loro ranghi e questa analogia col fumetto morbo m l'ho trovata calzante calzantissima davvero paola barbato ha è riuscita a parlare di tutti gli aspetti che girano attorno a livello sociologico culturale di quella che può essere appunto una pandemia conclamata l'ultimissimo aspetto appunto che parlavo di bugie e del fatto che i dottori in questo caso quelli del fumetto è in questo caso non sto parlando del coronavirus i dottori qui del morbo m danno anche eccessiva speranza agli ammalati pur di farli guarire perché quantomeno la meteora qua c'è la meteora qua sta arrivando la meteora distruggerà tutti questi dottori per dare speranza agli ammalati di morbo m si sono inventati che esistono delle arche sotterranee suboceane dove la gente può finire e e può salvarsi chiaramente queste arche in realtà non esistono perché sarebbe super costoso creare delle strutture del genere è vero che dicono nel fumetto che non è che le hanno create per la meteora in poco tempo ma che esistevano da un po' perché qualcuno si è voluto preparare a un'eventuale terza guerra mondiale e ci sono queste arche però è comunque una fregnaccia una frottola che la la dottoressa capo di questa di questo reparto si è inventata per dare speranza agli ammalati e chiede anche tra l'altro di land dog di diffondere questa bugia per poter diffondere la speranza e poter guarire gli ammalati fino all'impatto della meteora quindi qua ci si scontra proprio con il codice deontologico di un dottore che è costretto a costretto che deve comunque salvare la vita a un paziente in qualunque caso anche se sa che magari da lì a breve morirà per qualcos'altro però deve salvarla proprio per il giuramento di ipocrate deve farlo a tutti i costi e invece a un personaggio come di land dog che non è disposto a mentire a dare false speranze alle persone pur di guarirle non vuole illuderle preferisce comunque la verità malgrado tutto la cosa bella è che ci mostra un aspetto di land dog il classico di land dog che ogni mese si fa una ragazza diversa in questo numero se ne fa passare tre o due o tre non ho capito se l'ultima ragazza è la stessa che incontra a metà aiutatemi perché ha una diversa capigliatura perdonatemi quindi non so se nel frattempo ha cambiato taglio di capelli o è la stessa ragazza fatto sta che si fa più di una ragazza fa tutto per una ragazza che si chiama billy ma comunque non è disposto a mentire a dare false speranze alla popolazione e a billy nonostante ami billy ma mi piace che cambi idea quando a soffrire di questa patologia sul finale è l'ispettore block è l'ispettore in pensione block di cui per cui dylan nutre un affetto paterno nel senso che per lui è come se fosse un padre l'ispettore block di conseguenza per l'amore invece che prova per l'ispettore block allora si è disposto anche a mentire a tutto il mondo tant'è che questo numero finisce con dylan dog che si espone alla bbc che per chi conosce il personaggio di dylan dog esporsi ai media sa che è uno sforzo immane per poter dare questa falsa notizia cioè che esistono delle arche che la gente si salverà persino dall'impatto con la meteora che tutto va bene che lui è il nostro salvatore che la stampa si sta nascondendo la verità altro tocco di classe sui complottisti che esistono che esistono anche su questo coronavirus che stanno dire no ma non lo sai che il coronavirus è stato creato in laboratorio per esperimenti ma sti cazzi cioè ma cosa mi interessa dove è stato creato pensiamo a curarci poi tutto il complottismo che c'è dietro va bene ma se vi interessa più il complotto del problema reale ragazzi dovete vedere un dottore ma non un virologo dovete vedere un altro tipo di dottore ah che divertenti complottisti bene spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta perché non è una vera e propria recensione è come se avessimo letto insieme diciamo questo numero spero spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta se vi va di parlare appunto del problema sulla bocca di tutti sul coronavirus non mi scrivete nei commenti le cose che posso leggere sui link su wikipedia scrivetemi la vostra esperienza magari vi trovate nella zona rossa volete scrivervi scrivermi come vi sentite raccontatemi un po la vostra esperienza personale magari ci sono altre persone come voi che non conoscete nella zona rossa magari diventate amici qua sotto nel video ok così creiamo amicizia creiamo speranza ok non parliamo di complotti della cina di razzismo di cose brutte è pieno già internet se volete raccontarmi la vostra esperienza e magari appunto creare una piccola community di supporto di auto aiuto in questo brutto periodo in cui tutto è chiuso tutto è sigillato non ci si può contattare fisicamente lo facciamo ok lo facciamo qua sotto nel video io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto saluto e vi dico arrivederci al prossimo video